Buongiorno a tutti, benvenuti al laboratorio di permacultura mediterranea. Grazie mille per essere venuti, grazie mille alle associazioni Effetto Terra ed Essere Terra che hanno contribuito all'organizzazione dell'evento, grazie ovviamente all'Arti che ha contribuito e con ovviamente il finanziamento. Questo corso si svolge con quattro insegnanti, sono Saviana Parodi, italiana, Doug Crouch, americano, poi verrà Stefano Mattei che si occupa delle costruzioni in paglia, ecco compatibili e naturali e poi abbiamo Rames Kent che è di scuola australiana. Durante il corso avrete la possibilità, vista la diversificazione degli insegnanti, di poter capire anche come la permacultura è intesa nella versione anglosassone e nella versione italiana perché la permacultura è unica ma ci sono scuole di pensiero anche su come gestire l'insegnamento quindi voi avrete anche la possibilità di capire le due diverse scuole. L'azienda dove siamo è un'azienda agricola che è nata nel 2010, fa parte di questo pezzo unico, sono di all'incirca 3 ettari ma nella lama, perché qua ci troviamo in una lama a Bades, la Puglia è fatta di lama e questa lama scende da Cassano e arriva fino a Bari, la Puglia è famosa per i canaloni che sono stati costruiti a Bari che ricevono l'acqua che prevede dalla lama, noi ci troviamo in una lama, il corso d'acqua non è questo ma passa alle spalle di questa collina e quindi non so se ricordate nel 2005 quando Bari subì l'alluvione, uno dei corsi d'acqua fu proprio da quell'altro lato, in realtà passò anche di qui perché sull'autostrada c'era un ponte che non riusciva a contenere tutta l'acqua che venne e si raccolse tutta carbonara nella cava di Maso, non so se ricordate. Comunque l'azienda punta, in fase di conversione punta a divenire un'azienda permaculturale e sarà nel futuro quella che è probabilmente la prima city farm in città. Ci sono altri pezzi di terreno sparsi ma non hanno importanza in questo momento. Benvenuti a tutti, io lascio la parola a Flavia dell'Arti che deve fare una piccola presentazione e poi partiamo subito con il corso. Grazie. Buongiorno a tutti, io sono Flavia Giordano dell'Arti. Presenterò brevemente un po' anche la filosofia di questo che non è un corso ma è un laboratorio dal basso. In che cosa si differenzia un laboratorio dal basso da un corso normale? Questo corso è a differenza dei corsi che vengono realizzati nell'ambito della formazione professionale o delle università per cui c'è un ente che decide di che cosa bisogna parlare e poi cerca il suo target, cerca gente che venga a seguire il suo corso. Un laboratorio dal basso è un corso che nasce dall'esigenza stessa di imprenditori, imprenditori che lavorano in un settore, in questo caso imprenditori agricoli, che sulla base delle analisi dei propri fabbisogni decide di organizzare un corso per diventare più bravo, per migliorare le proprie competenze. E questo è il caso di questo corso di permacultura voluto da un gruppo di imprenditori, Ignazio Schettini, dalle associazioni Essere Terra, Effetto Terra, che si sono messe insieme e hanno deciso di approfondire la permacultura. Sono molto contenta di vedere qui stamattina anche i partecipanti dell'altro corso che c'è stato, ed è finito proprio sabato scorso, organizzato dall'azienda agricola di Patrizia Mastroleo e sono contenta che lì seduta e sono molto contenta perché penso che collaboratori dal basso si sia ottenuto un doppio obiettivo, quello di mettere in rete tutti i giovani agricoltori della Puglia, agricoltori che vogliono crescere, che vogliono migliorare, che vogliono fare innovazione, quindi sono molto contenta di questo scambio. Vi lascio al vostro corso, voi potrete più in là, penso probabilmente l'anno nuovo, trovare queste lezioni sulla nostra piattaforma www.laboratoridalbasso.it quindi potrete seguire, risentire queste lezioni in remoto e vi invito anche a utilizzare la piattaforma di Laboratori Dal Basso come una biblioteca virtuale per apprendere dal marketing all'agricoltura, all'open data, quindi seguiteci su Laboratori Dal Basso e sulla pagina Facebook. Abbiamo in essere un ultimo bando che si chiama Mentoring ed è aperto e permette ad associazioni e ad imprese di under 35 di chiedere un aiuto di un mentore, quindi un imprenditore più grande del suo stesso settore che lo guidi in alcune scelte cruciali, strategiche per la crescita della propria impresa. Noi faremo partire a breve una lettera a tutti i docenti di Laboratori Dal Basso e anche a tutti gli organizzatori perché si crei ulteriore sinergia, perché per esempio i docenti che avete già avuto modo di conoscere nell'ambito delle lezioni vi possano seguire e far crescere ulteriormente come impresa. Buon lavoro e buona lezione. Ciao, felice di tornare in Puglia dopo due settimane di assenza, ero al Gargano. Grazie Ignazio e grazie a tutti per essere qui. Una cosa mi veniva in mente mentre Flavia parlava, che è molto importante e mi ha fatto ancora più contenta di essere qua in questo momento, il fatto del Laboratorio Dal Basso e la sua spiegazione, nel senso che adottare nelle progettazioni dell'azienda, della vita, della permacultura vuol dire veramente andare alle radici delle nostre credenze e modificare i paradigmi. Il fatto che sia una necessità che parte dal basso ricorda l'evoluzione di un ecosistema, dove tutto parte dal basso e niente dall'alto. Quindi è naturale, possiamo dire. Quindi questo concorso nasce da un'esigenza vera e di conseguenza avrà molto più frutti, avrà molto più effetto che non qualcosa che è deciso appunto dall'alto tavolino. Quindi ancora di più mi sembra interessante partecipare. L'altra cosa che mi fa piacere di questo corso è la denominazione Mediterraneo. Francamente non so quanto noi riusciremo veramente a darvi un aspetto del Mediterraneo. C'è tanto, si sa tanto, ma ancora ci mancano testi, ci mancano ricerche, ci mancano dati. C'è tanta gente che da anni, ovviamente, dalla Grecia al Nord Africa, in Italia, in Spagna, sta facendo molti progetti di permacultura. Però non abbiamo come la massa di dati, di informazioni che abbiamo invece in permacultura desertica, tropicale, subtropicale, continentale, eccetera. Lì abbiamo molte più informazioni. Però bisogna iniziare. Quindi, iniziando con un corso e denominandolo Mediterraneo, ci spingerà a rifarci ad ogni secondo a tutte le problematiche che ha la nostra Terra, che ovviamente si affaccia tutta sul mare. Abbiamo chilometri di coste. e quindi questo è altrettanto interessante. Ci siamo incontrati ieri, sia con Ignazio che con Dar, ed è stata una serata. Ci siamo messi a tavolina, abbiamo lavorato per due o tre ore sul programma. Non è vero, siamo andati a mangiare pesce crudo e bevuto due bittine di vino. E questo è il senso della permacultura, cioè passare le informazioni attraverso l'esperienza e la sensazione. E ci siamo trovati perfettamente d'accordo davanti al vino e al pesce. Quindi ci sarà un scambio, intanto di occhiate, chi sei tu. Quello che abbiamo deciso, dato che c'è la traduttrice, e comunque sia che inizierà Dar e farà tutta la mattina. Nel pomeriggio non abbiamo traduttrice, quindi farò io continuamente. Però ogni tanto ci alterneremo, perché se vi lascio la parola, vi ringrazio. Buon appetito a tutti i nostri spiegati. permaculture design course we're gonna figure out how translation is going to work in terms of how often I stop so bear with us at the beginning allora benvenuti a tutti a questo corso di 72 ore sulla permacoltura adesso incominciamo e vediamo come organizzarci anche per la traduzione this is a course that's taught all over the world it's a it's a course that I've had the pleasure of teaching in in five different continents now and I'm very happy to be here with this group today è un corso che si tiene in tutto il mondo ha già dispensato questo corso in cinque diversi continenti ed è molto felice di essere qui con voi quest'oggi so welcome and thank you to our kind hosts and all the work that's gone on before this course to bring you here and to bring a diversity of teachers together allora benvenuti ancora a tutti e ringraziamo i padronini di casa tutti coloro che hanno reso possibile l'organizzazione di questo corso e anche per il duro lavoro che è stato fatto a monte e che ha portato che ha dato a tutti voi la possibilità di raggiungerci qui so I like to call this course a journey because I think it's quite a transformative experience for people to go through a permaculture design course e mi piace chiamare questo corso un viaggio un viaggio un'esperienza di trasformazione per tutti coloro che si avvicinano alla permacoltura questo corso di design e di progettazione della permacoltura e c'è una cosa che l'istruzione, la formazione e l'educazione non riesce a fare nella scuola e cioè è quella di sollevare la coscienza relativa all'ambiente non riesce la scuola ad insegnare agli studenti a leggere il libro della natura, il libro dell'ecosistema che ci circonda, della società, dell'ottica della sostenibilità So this course gives you design tools to be able to approach how to make our cities, our villages, our farms, our own personalities more sustainable e questo corso permetterà di dispensare gli strumenti della progettazione per poterci avvicinare alla creazione di città, di paesi ma anche della nostra stessa personalità nell'ottica della sostenibilità e va veramente al di là della sostenibilità per abbracciare un aspetto legato proprio alla nostra rigenerazione So this is a course that I personally have a lot of fun with because I get to interact with a diversity of people and see new ecosystems and learn new cultures E' un corso che mi diverte moltissimo perché mi permette di interagire con persone tanto diverse, con nuovi luoghi, con nuove realtà So I look forward to getting to know this group, unfortunately I don't speak Italian, so, but I do have a translator and I know some people when the group speak English So I'm going to introduce myself a bit more in the classroom a little bit later on, but for now I would like to get to know this group a bit better and also to begin to demonstrate the principles and patterns of permaculture Allora, ci sarà più tardi la possibilità di una introduzione, presentazione più approfondita di Doug in aula Adesso cerchiamo di fare la conoscenza con ognuno di voi e cercherà quindi di incominciare a dettagliare quelli che sono i principi della permacultura Quindi prendete un foglio Naturalmente il lato bianco No, no, dovete prendere il foglio dal lato bianco Ok? Ah, sì And everybody has something to write with? Sì Avete una penna? Avete tutti una penna? Yeah Ok, tutti una penna? Ok E questo per permettere agli altri di vedere il vostro nome e cognome scritto sul foglio Grande Sì, in grande, in alto Sì And then, at the top of the paper underneath your name, also in large letters, you will write inputs and then in the middle of the piece of paper you will write outputs Allora, sempre in alto, sotto il vostro nome e cognome scrivete sempre grande, a caratteri grandi, input e poi al centro, a metà della pagina del foglio, scrivete output So, we're going to get to know each other in the context of what we can offer our community that we formed here and what we're looking to gain from our community Allora, in questo modo cercheremo di capire che cosa noi possiamo offrire alla comunità da noi costituita qui e che cosa vogliamo ricevere in cambio da questa comunità Allora, sotto input dovete scrivere che cosa volete ottenere da questa comunità Mentre sotto output che cosa voi potete offrire alla comunità Are you looking to learn about yoga or identification of plants or people's stories from traveling? Per esempio, che cosa volete imparare? Volete imparare, non so, lo yoga oppure come identificare le piante oppure storie di viaggi? And what can you offer? Can you offer a massage? Can you offer advice on health? Can you offer sewing some clothing? I have a hole in one of my pants so hopefully somebody can help Allora, che cosa potete offrire in cambio? Non so, potete offrire un massaggio, potete offrire consigli sulla salute oppure come seminare piante particolari, sementi particolari, che cosa potete offrire? Try to write three things under each heading E per ogni voce, quindi input e output, scrivete almeno tre cose Ok È chiaro? It must not be related to the course necessarily No, but more in the community aspect No, no, gli aspetti più legati alla comunità, al fare comunità, quindi non necessariamente legati al corso di permacultura We all have things to share and we're all in need of things, but often we're too afraid to ask or too shy to tell about ourselves Abbiamo qualcosa da condividere, qualcosa da offrire e forse vogliamo anche chiedere qualcosa in cambio ma spesso abbiamo paura o siamo troppo timidi per farlo Allora 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 mi piace il sole do you mind if I set up? please iscriviti al canale Passiamo quindi alla fase successiva. Allora, ognuno di voi dovrà presentarsi, con il nome e il cognome, dire da dove viene e quali sono i propri input e output. Ciao a tutti. Sono Michele Fortunato e i miei input sono fare cerchio, fare rete, quindi stare insieme, collaborare, quindi vengo qui proprio per questo. Scambio opportunità e saperi, quindi in questo rientra anche esempi di esperienze di vita sostenibile e naturale, insomma, come noi stiamo cercando di fare. Questi sono gli input. Come output, invece, adesso mi diverto a suonare strumenti a percussioni o a fiato e quindi posso dirvi come si fa una respirazione circolare, insomma, ad esempio. Quindi pratiche per la respirazione, per concentrarsi. E poi mi diverto con la giocoleria e quindi tutto ciò che vola per me va benissimo. Palline, clave. Prima cosa che ho detto, non ho. Sì, respirazione circolare. Ah, percussioni, palline, juggling. No, vabbè, sì, sì, ok. Ma questo è tutto qua. Sono Gianpaola Cardaropoli, vengo da Bari. I miei input sono sicuramente uno stile naturale di vita, che un po' tutti penso che qui abbiamo. Legatissima degli stimoli positivi, perché da tutti i corsi che finora ho fatto, calore e tanto verde. Come output posso dare delle conoscenze sulla carta antica, libri, incisioni, manoscritti. Piccole conoscenze che ho fatto un anno fa, più o meno, sugli officinali. Tanta gioia. Ciao a tutti, sono Giuseppe, mi chiamo Giuseppe Lorusso. I miei input sono condivisione di sostenibilità al primo posto, tecniche di agricoltura e cultura in genere. I miei output sono conoscenza dei principi attivi in quanto sono farmacista. E inoltre, poi anche dai principi attivi, ottenere delle forme farmaceutiche a base di rimedi naturali. E poi un'altra mia grande passione è sempre stata l'etologia, quindi studiare il comportamento degli animali. e fin da bambino, fin da bambino ho osservato questa relazione che c'è tra gli animali e l'ambiente circostante. E posso magari interagire con chi fosse interessato, chi avesse voglia, su queste mie osservazioni che ho sempre fatto. Grazie. Buongiorno, mi chiamo Marisa Desiante. Allora, i miei input, condivisione dell'approccio all'agricoltura, perché penso che sia singolare per ognuno di noi. Mi aspetto anche un confronto dei diversi luoghi e del diverso lavoro svolto nelle singole realtà. E la creazione di una rete di scambio, che penso che sia... Tra i miei output ho scritto la mia disponibilità, che penso che valga a 360 gradi, la conoscenza della mia terra di origine e la sensibilità e il comportamento che io ho nei confronti dell'agricoltura. E l'altra parte dell'input, poi alla fine sono le due frecce. Grazie. Mi chiamo Carmine Montera. Carmine Montera. Gli input sono, siccome ritengo che la permacultura abbia una grossa valenza politica, è quello di tentare di capire attraverso questo corso come si possa trasformare una società. Io vivo in un piccolo paese, che è legato strettamente a certi usi, soprattutto in agricoltura. La seconda cosa è un divertimento mio personale per cercare di mantenere la mia piccola azienda in modo salubre. La terza ancora, siccome sono psichiatra e sono abituato a interrogarmi sui grandi problemi del mondo, e se la permacultura mi aiuterà a cambiare la mia attuale visione del mondo. Gli output che posso dare sono quello di annoiarvi raccontandovi le mie esperienze di vita, i consigli di salute perché sono medico, e come si fa a gioire dell'ozio perché essendo andato in pensione mi sono riappropriato del mio tempo. Non ho capito, scusa. Dov'è? Il piccolo paese sta in provincia di Salerno, si chiama Olevano sul Tusciano. Il nome del paese è Olevano sul Tusciano, è in Campania regionale. Ciao a tutti, io sono Roberta Santoro e ho messo tra gli output conoscere nuove tecniche agricole sostenibili e poi avere uno scambio di esperienze a livello personale e anche professionale o per quanto riguarda l'agricoltura con voi. Per gli output ho messo, vabbè, ovviamente ricambiare questo scambio. Posso dare il pranzo, condividerlo e poi posso mettere a disposizione quelle poche conoscenze che ho per quanto riguarda tutto ciò che riguarda appunto lo sviluppo umano. Buongiorno, sono Andrea Narcisi di Brindisi, che parla di questo è la parte più brutta di ogni corso, quindi la odio profondamente. Non ho nessuna esperienza in materia, non ho più parida idea di come si coltivi, non so, un legume. Diciamo che sono qui per scoprire nuove aree dell'ambiente che mi circonda e di me stesso. E questo è fra i miei input. A termine di questa cosa fumerò una sigaretta, comunque. Vorrei ritrovare un contatto con la Terra. Come output, non so, sono un massaggiatore ayurvedico, se qualcuno vuole approfittare. Sono un master di reiki, fra le varie cose, quindi non so se posso darvi altro. So that's what he can share with you. Ok, grazie. Io sono Marita Carrieri. Marita Carrieri. Da Conversano vengo. Come input, mi piacerebbe imparare a potare un po' gli alberi, diciamo, o usare le erbe medicinali. No, how to prune, how to prune trees, pruning tecniques, and how to use medicinal plants. E anche apicoltura. And also beekeeping, beekeeping as well. E come output, un po', cioè quello che so fare, cucina naturale. Quindi, un po' di cucina, marmellate, saponi, o cose così. Gems, or she's able to manufacture soaps, natural soaps. Io mi chiamo Valeria De Bellis, vengo da Castellana Grotta. Vengo da Castellana Grotta. Quello che mi aspetto, diciamo, che spero di ottenere da questo corso nuovo, sono chiaramente conoscenze nuove. e poi proprio tecnicamente voglio proprio conoscere le disposizioni delle piante. And from a technical point of view, she wants to do, she's interested in the design of plants, and how to put plants in the plots, on the basis of the principles of permaculture. Chiaramente le esperienze di vita, quelle che escono fuori da tutti noi, che interessa, è lo che posso offrire. Sono la mia esperienza annuale di massaggi, personali, marmellate, manovalanza generica di ogni genere. Io sono Patrizia Mastroleo e vengo da Castellana. Patrizia Mastroleo, from Castellana. Quello che mi aspetto da questo corso sono nuove esperienze agricole, consigli per convertire un'azienda più o meno in transito, per arrivare ad un livello diverso. E mi piacerebbe anche eliminare i pregiudizi generici sulla permacultura con cui mi ritrovo a combattere in un luogo dove l'agricoltura dà lavoro a un sacco di persone. E poi mi aspetto un massaggio, visto che ci sono tanti massaggiatori. Come output posso offrire tarallucci e vino, braccia per un ecovillaggio, e posso condividere piante e semi. Io sono Alberto Gorga e vengo dalla terra di Bari, perché nasco a Bari, vivo a Capurso, ma in realtà mi sento non cittadino. E come input io ho colto il senso della comunità e non del corso, per cui ho riportato serenità, capacità di connettermi con la terra, agricoltura naturale per intendersi, e amore. E come output, metodo, organizzativo, cereali, quella poca esperienza nel trasformarli, e amore anche. Grazie. Io sono Federica Albanese Ruffo, vengo dalla Tuscia, da Bagnoreggio, in provincia di Viterbo. Tra l'input ho messo connessione con la natura e la terra, quindi spero di condividere con tutti questo viaggio verso la natura sempre di più, che sto ormai facendo da un po' di anni. Condivisione di saperi e di vita, di ognuno di voi. Riflessioni sulle cose, ho scritto, non so come spiegarlo, quindi imparare a riflettere sulle cose. Tra gli output ho messo armonia, comunità e collaborazione, e energia. Quindi posso dare qualcosa che viene da dentro, più che tecniche o saperi specifici. Grazie. Ciao, io sono Michele Rosetti, vengo da Ravenna, sono il polentone del gruppo, quanto pare. Niente, sono qui per non prendermi sul serio, come spero molti di voi, per fare rete, per conoscere persone, quante più posso, realtà, è quel che capita, perché se io mi aspettassi qualcosa, poi in realtà saprei già quello che non conosco, che voglio trovare. E poi divertirmi. Come output ho messo consigli agricoli, perché è il mio lavoro, anche se probabilmente posso consigliarvi quello che non dovrete fare in permacultura, perché comunque ho ancora un'azienda, purtroppo in transizione anch'io, sono tante cose che devo migliorare. Un bambu in transizione, forse sono passato di là. Poi posso scambiare tante chiacchiere con tutti voi, penso, insomma, quello che direbbe ognuno di noi, dai. Ho tante domande, soprattutto, e curiosità. Spero di divertirmi con voi. Ciao. Ciao a tutti, io sono Elisabetta De Blasi, Elisabetta De Blasi, è stato un po' difficile concentrare in poche cose. Allora, tra gli input, creare relazioni, perché anche io ho colto, come Alberto, come diceva Alberto, l'idea del gruppo, del corso, quindi creare relazioni con persone nuove, acquisire delle conoscenze, da poter utilizzare anche con l'attività dell'associazione effetto terra di cui faccio parte, quindi anche l'idea di poter introdurre la permacultura all'interno di uno spazio urbano, se è possibile, lo vedremo, e quindi anche informazioni, e costruire magari prospettive con qualcuno, se sarà possibile, quindi sempre nell'ambito delle relazioni, e imparare una cosa nuova. e come output, collaborazione, quasi le stesse cose che vorrei ricevere, insomma, quindi collaborazione, relazioni, creare condivisione, condividere informazioni per quello che so riguardo la conoscenza dei cibi, per chi mi occupo di cibo, e basta, e quindi condividere le mie esperienze. Grazie. Ciao a tutti, io sono Marinella Bozzetti, e vengo da Trani, e vabbè, tra gli input, non so che faccio, e ho messo, sicuramente, avere dei nuovi punti di vista, che è quello che di solito, cioè, in questo tipo di esperienze, mi porto spesso a casa, e anche, chiaramente, nuove relazioni tra le persone, e poi, nello specifico, proprio informazioni, su dei temi, che in questo momento, mi risultano abbastanza nuovi. E tra gli output, oltre ai miei germi, vi posso dare, delle informazioni, sul territorio dove lavoro, che è quello dell'Alta Murgia, se mi può interessare, e poi, in realtà, siccome mi occupo di sostenibilità, da un punto di vista della mobilità, chiaramente, sono aperta, più che a dare consigli, più a scambiare dell'idea, e in generale, la condivisione sulle mie esperienze di vita, che possono essere di vario genere, dallo yoga, che altro messo? Attività di artigianato, cose varie, va bene, avremo modo di parlarne. Io mi chiamo Cristiana Ciminale, vengo da Bari, sono un'educatrice, e ultimamente, mi sono divertita a progettare, orti all'interno delle scuole, con i ragazzi, i bambini. Il mio input, sicuramente, appunto, la condivisione, cioè, proprio il fatto di non sentirmi isolata, cioè, di far parte, di una comunità, che abbia, diciamo, una sensibilità affine alla mia, comunque, quindi, e poi, insomma, anche imparare proprio degli aspetti pratici, rispetto a qualcosa, in particolare l'agricoltura. Sì, perché questo è l'ultimo periodo, sto vivendo in campagna con degli amici, uno è anche qui, e mi piacerebbe, insomma, imparare a sfruttare le risorse della terra, insomma. E come output, insomma, partecipazione, collaborazione, manualità, cioè, sono pronta a mettermi in gioco, perché ho tanto da imparare. mi chiamo Carolina Borghi, vengo da San Paolo, non di Bari, ma del Brasile. c'è una piccola differenza, credo che. E sono tante cose che vorrei avere dalla società, dalla comunità, ed è questa stata, per me, una forza per farmi venire qua, per lasciare il mio paese e venire qui. Innanzitutto, voglio imparare a essere cuoca, voglio imparare a cucinare, perché la cucina italiana è meravigliosa, e quindi imparare tutti i piatti buoni che ci sono qui, dalle marmellate, le amiche che fanno marmellate, crostate, quant'altro. Ovviamente, ho detto questo prima, perché volevo anche dare, giustificare un po' il mio salto verso l'Italia, l'Italia è sempre visto come il cibo, non la riferimento. Quindi, e questo è stato uno di loro, l'agricoltura, che per me è proprio recuperare è una cosa che c'ho dentro, perché i miei nonni facevano, i miei bisnonni che erano italiani, e quindi io purtroppo non sono cresciuta in campagna, e quindi ho un recupero di questa, anche se vengo da un paese prevalentemente agricolo, ma un'agricoltura che purtroppo è molto industriale, anche se si parla ora di agricoltura familiare, quindi questa è una cosa che mi piace molto, e poi che altro? vorrei appunto condividere, imparare, conoscere persone, insomma, così. Cosa posso offrire? Niente, sono inutile, no, non è vero. No, è vero, ma niente. Allora, cosa posso offrire? Mi piace molto praticare yoga, sono quasi 15 anni che lo pratico, quindi potrei dare qualche consiglio senza spaccare la schiena di qualcuno. mi piace molto la filosofia maya e quindi conosco un po', ho studiato un po' i calendari che loro seguono, il calendario delle 13 lune, quindi chi vuole sapere qualcosa posso anche dire. Mi piacciono anche i tarocchi, vabbè, non potevo, i brasiliani sono tutti così spiritualità, quindi mi piacciono molto queste cose e potrei anche dare qualche consiglio a chi vuole andare in Brasile, raccontare qualcosa che sta lì dalla tradizione, cibo, e niente, un'unica cosa che volevo dire, farò anche molte domande sulla permacultura nei tropici, quindi vorrei capire anche perché cambia molto. She wants to understand permaculture in tropical areas because of deep differences. Ok, tutto qua, grazie. Ciao, io sono Francesca, Francesca Covelli, vengo da Bari. Francesca Covelli, tra le cose che vorrei imparare è un po', cioè sicuramente approfondire la coltivazione naturale. Natural, natural agriculture, first of all, this is what she wants to learn. un po' capire come divulgare e coinvolgere più persone per riflettere su un cambiamento. Quindi, un po' come diceva prima, anche a livello sociale. E poi, mi piacerebbe molto discutere sul cambiamento in una famiglia convenzionale. Perché io sono sposata, ho due figlie, e non mi seguono in tutto questo. I figli non seguono e non supportano la famiglia convenzionale. Secondo me, quindi, bisogna ripartire dalla mia famiglia. Innanzitutto. diceva che si deve iniziare da sua famiglia per instillare nuove idee e per instillare innovazione. E poi, potrei offrire ospitalità, lo scambio di ricette di cucina naturale. E poi, anche questo desiderio di cambiare, di un po', di discutere proprio di questo. She would like to discuss about possible changes. Sono Saviana. A parte pesce e vino, ma abbiamo capito. Saviana, apart from raw fish and wine, mi aspetto molta allegria, l'allegria del sole, e mi aspetto molta apertura. e mi aspetto un po' di dati di produzione nel Mediterraneo che ho bisogno, perché sto mettendo da parte un po' di dati. Quello che posso dare è connessioni, adattamento connessioni, adattamento. Sì, forse le mie esperienze che ne so. She can share, she can offer her experience. Ciao a tutti, sono Giuseppe Sannicandro. Sannicandro. In questi giorni mi aspetto un confronto sulle esperienze, ricerche, insomma, condivisione, in particolar modo su forest gardening e coltivazione in genere, e anche su rigenerazione del suolo, non necessariamente, diciamo, a fini produttivi. Mi piacerebbe magari che a fine di questi incontri, anche sommando diciamo le esperienze di questi laboratori dal basso precedenti, si costituisse anche qui una piccola rete di permacultori baresi o insomma pulchiesi o un po'. Comunque una rete locale che si confronti su queste tematiche. Quello che posso dare sono le mie esperienze sull'economia solidale le mie esperienze e soprattutto le difficoltà sulla coltivazione in ambiente semi-arido perché è un microclima nel microclima ancora più arido del normale in queste zone in particolare di orto sinergico e le mie conoscenze sulle piante spontanee del luogo conosco diciamo abbastanza il territorio e sulla panificazione. Allora ciao a tutti sono Valentina Prudente di Bitonto Valentina Prudente Allora mi aspetto da questo corso entusiasmo e coraggio determinazione riflessioni su comunicazione ecologica e empatica riflessioni anche io come diceva Francesca e il dottore non mi ricordo il nome prima riflessioni sulla transizione una società una comunità in transizione e poi tecniche agricole in genere in particolare sull'arido cultura anche io sulla formazione e l'arricchimento del suolo e tecniche di recupero dell'acqua e quello che posso offrire è di sicuro la mia voglia di imparare di ascoltare la mia resistenza fisica discreta tutto ciò che è legato alla mia esperienza di vita e piccole conoscenze di autoproduzione e sobrietà e poi sono una specie di compostiera umana per cui se vi avanza del cibo mangia tutto ciò che avanza mi piace mangiare io sono Ilaria d'Aprile e vengo da Bari mi aspetto di allargare la mia visione sistemica per scoprire come entrare più in relazione con la natura e mi aspetto di ricevere disponibilità ad ascoltare e maggiore collaborazione cioè che si metta un po' da parte del ser per noi e ciò che può soffrire sono consigli sui progetti di educazione ambientale con il metodo dell'ecoalfabetizzazione in particolare ecoliteracy ecoliteracy e ascolto molto sono una persona accogliente posso offrire anche delle di per la parte logistica dell'organizzazione di questo corso e poi cucino e quindi ho messo a disposizione del cibo e she can share fruit because she 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 likes cooking ciao a tutti sono leonardo favale e vengo da casa massima mi aspetto di apprendere tante cose da voi siete molto differenziati nelle vostre esperienze quindi mi piacerebbe apprendere un po' da tutti in particolare mi piacerebbe imparare a comunicare a comunicare le mie attività e ovviamente mi aspetto di apprendere tutte le tecniche di coltivazione agricola improntate alla sostenibilità e in generale vorrei condividere tutte le esperienze di cambiamento sulla sostenibilità e come output invece io sono specialista in diritto ed economia se qualcuno avesse bisogno posso mettere a disposizione elementi di pioneristica sono una specializzazione in pioneristica e posso offrirmi come guida in viaggi esperienziali a piedi alla scoperta del genio loci della nostra loci ciao sono Marco cistulli da Adelfia Marco cistulli da Adelfia un altro village che è qui a pochi chilometri da qui come input vorrei approfondire conoscenze di agricoltura naturale e biologica sia per quanto riguarda l'orto che la frutticoltura sulla fertilità del suolo vorrei imparare vorrei capire come impostare un'azienda agricola che sia sostenibile sotto più punti di vista e mi piacerebbe imparare a conoscere le erbe spontanee e comestibili come output io ho studiato car design potrei diciamo potrei condividere qualche esperienza di conoscenza di design grafica disegno manolibere con photoshop freehand drawings o photoshop drawings ciao a tutti mi chiamo Sara Diana è il cognome lo specifico perché sono due nomi di solito come cioè a me piace in relazione al corso mi piacerebbe un po' tutto quello che è stato detto fino adesso quindi generalizzando e apprendo un po' le frontiere mi interesserebbe un po' imparare più che altro impegnarmi a fare yoga poi mi interessa non mi piace mi piace ascoltare i racconti sulle esperienze di viaggio comunque muovermi anche a piedi come diceva lui per vedere un po' i dintorni i luoghi dove si vive poi attualmente mi servirebbe in prestito una levigatrice per chi ce la potrebbe avere perché sto iniziato a lavorare su un armadio e mi serve la levigatrice ad Adelfia e sono di Adelfia rispetto a quello che avrei da offrire in generale ovviamente le mie conoscenze che però variano sono preparata come geometra ho anche lavorato in questo ambito e sono appassionata di bioarchitettura o meglio edilizia naturale edilizia naturale natural building però mi piacerebbe per esempio offrire quel poco che so riguardo alla salute però non sono un medico la cucina italiana italiana poi per riguardo alle esperienze di viaggio ho messo che potrei offrire in caso in prestito la mia tenda qualcosa che può servire se non l'ha portata mia figlia a Roma via con sé se è ancora a casa conoscenze base di photoshop e altre cose fotografia insomma un po' di passione lucinetto e di tutto nel mio piccolo piccole cose ciao a tutti sono Andrea Navak vengo da Mola di Bari Andrea Navak da Mola anche io ho scritto un po' sarà il problema di essere gli ultimi anche a me va bene tutto quello che è stato già detto io ho scritto relazione positiva rete anche io vengo da un'esperienza di gruppo un po' scottante quindi mi interessa capire se il gruppo è possibile o no se la coesione è possibile poi ho scritto benessere psicofisico e a proposito del libro della natura che è un'espressione che mi piace molto ho scritto imparare sempre più a leggere il libro della natura e a metterlo in connessione con il libro dell'uomo visto che sono diciamo di formazione umanista umanistica output ho scritto un po' vabbè più di tre va bene lo stesso leggo veloce il mio tempo la mia lentezza il mio sangue freddo le mie mani la mia disponibilità la mia esperienza i miei desideri le mie frustrazioni sul mondo dell'educazione in generale la mia casa in campagna è la casa di paglia che sto costruendo è una house è una house è una house e una house che è una house che è una house che poi è anche connesso con l'input perché chiunque voglia venire a dare mano dopo ad aiutarmi nella mano dopo può sempre venire e anche tu che suggeriamo tra magari facciamo due chiacchiere dopo e le mie misere e conoscenze botaniche e magari il mio bilinguismo se può aiutare in alcuni momenti se c'è un momento aiuto per la traduzione ma vedo che te la capi benissimo grazie again my name is Doug inputs that I'm looking for are smiles good food and helping hands and things that I can offer are Reiki travel stories and plant identification I really enjoy sharing that knowledge that I have e per gli output può offrire Reiki storie di viaggio storie di viaggio e l'identificazione delle piante my input no I didn't oh well no I didn't think ok ok sono Ignazio Schettini e negli input ho bisogno di sostegno help help love amore and I can write down business plan this is what I do posso fare business plan questo è quello che posso dare e cercare ok 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 so what we're going to do next is to everybody's going to stand up and stand in a circle so we may have to rearrange chairs and cameras and and things like that allora nella prossima fase ci alziamo tutti e per cui ci dobbiamo riorganizzare di nuovo con le con le con le sedie con le telecamere quindi dobbiamo riorganizzare il tutto grazie